ciao cari spettatori benvenuti nel mio canale video cari follower condividerò per voi un video di ali libraim e sila turcoglu gli amici ali libraim e sila turcoglu sono venuti alla ribalta con la serie di fiducia che hanno giocato al giorno d'oggi la notizia di sila turcoglu innamorata dell'alp nevruz è diventata all'ordine del giorno prima di passare al nostro video non dimenticare di mettere mi piace al mio video supportarci iscriverti al mio canale passiamo ora ai dettagli della notizia la notizia della separazione di alp nevruz e sila turcoglu è caduta come una bomba nell'agenda dei social media alp nevruz e sila turcoglu si sono davvero lasciati dopo la notizia della rottura sila turcoglu è tornata a casa alp nevruz invece è andato in vacanza a parigi la città degli innamorati le immagini interessanti di alpine javuz che è andato a parigi da solo sono diventate l'ordine del giorno queste quote di alp nevruz andato in vacanza senza sila turcoglu hanno confermato la notizia della separazione del duo si dice che ali libraim che ian sia dietro la decisione di separazione di alp nevruz e sila turcoglu quindi alp nevruz e sila turcoglu sono davvero partiti per ali libraim che ian vi presenteremo i nuovi sviluppi delle notizie di sila turcoglu e alp nevruz addio resta in salute resta felice e sereno